La Toscana estende dal 2017 la fascia di età per la quale è indicato lo screening mammografico, passando da una fascia dei 50-69 anni a 45-74 anni. La regione investirà sul progetto la cifra di 1.600.000 euro. Anche la lotta al tumore al seno inizia dalla prevenzione, per questo la Toscana dal 2017 estenderà la fascia d'età per lo screening, che da 50-69 anni passerà a 45-74 anni, ampliando così notevolmente il numero di donne controllate. La regione ha approvato la modifica con una delibera ingiunta e investirà sul progetto 1.600.000 euro nel triennio 2016-2018. Resterà invariata la struttura di riferimento per l'attuazione del programma, e cioè l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Per la completa messa al regime ci vorranno 5 anni. Come funzionerà il nuovo sistema? Sarà inviato un invito attivo a cadenza annuale alle 45 anni, con riassorbimento delle donne 46-49 anni, a presentazione spontanea con impegnativa del medico di famiglia. Verrà mantenuta la cadenza biennale nelle donne in fascia di età 50-69 anni. Alle donne in fascia d'età 70-74 anni sarà inviato un invito attivo, sempre a cadenza biennale. Il cambiamento mira a incrementare la percentuale di sopravvivenza, che è strettamente correlata alla precocità della diagnosi. Con l'estensione della fascia di età arriveranno a controllarsi circa 30.000 persone in più all'anno. Per le donne asintomatiche fuori fascia screening, cioè prima dei 45 e oltre i 74 anni, e alle donne con alto rischio per ragioni ereditarie, esiste la valutazione senologica, con pagamento del ticket. Se la valutazione senologica risulterà positiva, saranno erogati gli esami diagnostici di approfondimento ritenuti necessari, totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale.